Per l'Italia la priorità è il cessate il fuoco in Libia, per questo l'intensificarsi delle trattative ha visto una visita del generale libico Khalif Haftar a Roma, ospite del premier Giuseppe Conte a Parazzuchigi. Nel corso del faccia a faccia il leader cirenaico si è limitato a prendere nota della posizione italiana. Il 7 maggio dopo aver ricevuto il premier del governo di accordo nazionale al Sarraj, il presidente del consiglio aveva annunciato la visita di Haftar in una staffetta diplomatica per risolvere la crisi libica. Questa volta Conte è stato esplicito e ha incalzato l'interlocutore indicandogli che il sostegno dei paesi stranieri che Haftar oggi vanta potrebbe dissolversi se insisterà nell'offensiva militare.